I videoproiettori Epson a tiro ultracorto utilizzano un particolare sistema ottico che sostituisce le lenti grandangolare con un sistema di specchi. Questo consente di ottenere non soltanto un tiro dell'ottica estremamente ravvicinato, ma anche una maggiore uniformità della luminosità sulla superficie di proiezione e un maggiore controllo della qualità del fuoco agli angoli dello schermo. Questo tipo di ottica particolare ci ha permesso anche di integrare un sensore a raggi infrarossi che interagisce con questa penna e trasforma il videoproiettore e l'area di superficie in un'area interattiva, in questo modo. Un altro vantaggio di questo tipo di videoproiettore è il fatto che l'interattività è disponibile su qualsiasi superficie di proiezione che io voglio utilizzare. Ad esempio qui sto utilizzando una superficie bianca, ma potrei utilizzare anche in una classe scolastica una vecchia lavagna di Ardesia, una di quelle nere. Questo perché all'interno delle modalità di calibrazione del colore del videoproiettore è presente proprio la modalità lavagna nera che permette un perfetto bilanciamento dei colori anche su una superficie di sfondo estremamente scura. Un altro vantaggio di questi videoproiettori interattivi è il fatto che sono compatibili con qualsiasi software disponibile sul mercato. Grazie. 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 Grazie.